Anche Estra ha la Leopolda di Firenze alla prima edizione estiva dell'Open Summit di Startup Italia, dedicato alle start-up, che a dicembre premiò la Multi Utility per la sua capacità di innovazione. Un segnato a Gianni Minà il premio alla carriera del concorso giornalistico Estra per lo sport 2018. Il popolare scrittore giornalista non aveva potuto presenziare a Prato alla cerimonia dello scorso ottobre. Dalla Toscana alla Sicilia, passando per Abruzzo, Marche e Campania, è tempo di Estra Day, gli alunni delle medie che hanno preso parte all'Energia in Squadra, il concorso promosso da Estra e Legambiente. Tempo di premiazioni anche per i piccoli leoni di Roar, il concorso di educazione ambientale di Estra e Straliguto Teatro, che ha coinvolto 130 classi elementari e 3.200 alunni di Ancona, Rezzo, Prato e Siena.